Tieni in banco a Roseto degli Abruzzi ancora la situazione relativa all'urbanistica, passo in avanti per il futuro dell'urbanistica qui nel territorio rosetano con la vicenda realtiva al SIT e poi ovviamente tutta la digitalizzazione del piano regolatore. Sì, finalmente abbiamo attivato il nuovo sito, il geoportale SIT urbanistico che permette a tutti gli utenti e tutti i cittadini di poter verificare digitalmente il piano regolatore molto datato. Come ben detto sarà un prossimo passo importante che è quello di digitalizzare il suo, lo sportello dell'edilizia per attivare tutta la procedura digitale in modo che possiamo così procedere nel processo di digitalizzazione che ci siamo impegnati durante la campagna elettorale e adesso stiamo pian piano mettendo in atto. La senso che è la prima volta quella della digitalizzazione in campo urbanistico per il comune di Roseto? Diciamo che il SIT è già un grande passo avanti, ho avuto molti riscontri con diversi tecnici, nei primi incontri quando mi sono insediato è stata una priorità con i nostri uffici valutarla e quindi abbiamo subito preso da KIT questa situazione e è la prima volta che si passa a un processo di digitalizzazione nell'ufficio tecnico di Roseto.